Antonio, ma guarda mi faccio, mi è ciso. Anna, tu qua sei entrata con una motivazione ben precisa, tutto hai fatto tranne che metterti in gioco. Tu dovevi capire se la tipologia di uomo di Antonio va bene per la tua vita, tu ti fai. Antonio, ma tu hai capito che sei? Ma cosa mi dovrebbe andare bene di te? Che hai fatto work per due settimane, azzeccata una persona. Ma ti sei innamorata in dieci giorni? Anna, ma chi ha parlato di amore? Io ho sempre messo le mani. Anto, ti sei innamorata in dieci giorni. Anna, ho sempre messo le mani. Anto, io prima di entrare qua dentro ho visto in video dove piangevate, non devi andare, mi raccomando, non ti preoccupare. Anna, io non lo so tu a cosa ti riferisci, io ti dico così. Tu non manco volevi venire, Lorenzo l'ha dovuta cacciare per dire oh, ma ora te lo vai. No, Lorenzo ha detto un'altra cosa. Che sto parlando io. Lorenzo ha detto un'altra cosa. Ma che ha detto Lorenzo? Anna, ma tu hai visto due minuti, vedi due minuti di video. Ma quale due minuti Antonio? Ho visto 50 minuti di video. 50, 50. La giornata è fatta di 24, 24 ore. E stavate sempre insieme perché i tuoi amici le hanno detto tutto il tempo che stavate sempre insieme. I tuoi amici hanno cercato di farti rivedere. Antonio, i tuoi amici hanno cercato di farti rivedere. Antonio, stai sempre con lei. Antonio, stai sempre con lei. Antonio, riprenditi. Antonio, cambia cosa. No, Antonio ti piaceva. Andate in il testosterone fino a qui. Andate a oltrepassare il testosterone. Non è vero, Anna. Io sono... Sesso!